Oggi andiamo a vedere 5 investimenti da tenere nel proprio portafoglio, 5 investimenti da fare assolutamente almeno a parer mio e ci tengo a precisare questa cosa che non voglio fare nessun guru, niente di tutto questo anzi voglio che magari se voi fate altri tipi di investimenti diversi da questi, altre esperienze che avete avuto magari se le condividete così magari da approfondirle, nelle prossime volte ne possiamo parlare assolutamente anzi sono bene accette, queste sono quelle che con la mia esperienza avuta in questo campo con tutte le cose apprese sono secondo me quelle più importanti e che si devono assolutamente tenere tra i propri asset ma anche per diversificare perché sappiamo che la diversificazione è una delle cose più importanti e direi di partire subito con questi 5 punti e l'ultimo che è il più importante sempre a parer mio ve lo lascio alla fine che lì c'è proprio un altro mondo e altra cosa poi ovviamente in questi 5 punti ogni punto di questo ha una diciamo sottocategoria cioè si divide in tante parti ma adesso andiamo a vedere tutto quindi partiamo subito con il primo investimento che dovrebbe essere quello dell'immobiliare non so quanto si veda da lì comunque primo investimento da detenere nell'immobiliare adesso voi direte ma investire nel campo immobiliare ci vogliono tanti soldi dovresti comprare una casa magari metterla in affitto oppure ristrutturarla e rivenderla oppure no ci sono tanti modi per investire nell'immobiliare ci sono tante categorie puoi comprare anche un etf che comprende un pacchetto di azioni che investono sull'immobiliare abbiamo fatto già un video su questa cosa specifica che a me piace molto ci sono i crowdfunding che appunto accumulate soldi insieme ad altre persone investendo nell'immobiliare ma comunque sia a parer mio l'immobiliare ci deve essere tra i propri asset perché immobiliare secondo me è quello che le percentuali sono abbastanza buone magari possiamo fare anche in seguito una classifica dove su quali sono gli asset da tenere e quali sono quelli che rendono di più che hanno più potenziale che ovviamente tra questi 5 già vi dirò qual è quello che ha più potenziale ma potete ben immaginare perché dopo ci arriviamo secondo investimento da avere materie prime materie prime questo dovrebbe essere un 1 materie prime che ragazzi sono molto molto tralasciate e dimenticate quasi nessuno di quelli che sento almeno del mondo di oggi mi dice che investe in materie prime sono veramente pochissimi ma sono più i vecchi investitori sai quelli che investono solo in azioni o magari che sai quei tipi che dicono no le criptovalute no loro investono molto su le materie prime e anche qui si può investire in materie prime tramite un etf che magari comprende tutte le principali materie prime oppure investire anche sull'oro cioè investimento sull'oro è importante fatemi sapere se qualcuno già lo fa e come lo fa soprattutto perché investimento sull'oro è un ottimo ha un ottimo potenziale a parer mio da tenere da tenere anche questo ovviamente sull'oro poi lì c'è tutto magari si può acquistare in oro fisico in certificati in tanti modi ovviamente anche su metalli preziosi perché no anche qui ci sono tante sottocategorie che magari una per volta potremmo andare ad approfondire tranquillamente e vedere quali sono i più facili da detenere nei propri asset oppure i più difficili quelli che possono rendere di più o di meno in base al tipo di investimento passiamo al terzo investimento terzo investimento da fare assolutamente sono le azioni azioni e molti di quelli che investono in criptovalute non investono sulle azioni azioni inteso come ovviamente mercato azionario una determinata azione di un'azienda un etf ovviamente non però relativo magari all'immobiliare o a questo cioè nel senso non è che andiamo a acquistare un etf di materie prime se già ce l'abbiamo ma andremo a acquistare azioni su determinate aziende che ci piacciono e che in futuro appunto ci facciano appunto fare qualcosa non andandoci a collegare a quelle di prima altrimenti sarebbe la stessa cosa tanto vale che investiamo in queste e basta sulle azioni altra cosa che è interessante fare magari anche un piano d'accumulo che questa è una cosa che in pochi anche qui fanno queste sono forse queste sono quelle che sento solitamente di meno in questo periodo adesso non so se perché il mio ambito magari parlando più di criptovalute allora senti più pareri verso le criptovalute ma in generale persone che sento ultimamente ripeto lasciano un po' perdere questo tipo di argomenti e si concentrano sul quarto investimento che sono le cripto sulle cripto qui si apre un mondo perché ragazzi come sotto categorie qui abbiamo veramente una marea di roba però come vi dicevo forse tralasciano queste e si concentrano su questa perché ragazzi dà di più cioè gli investimenti rendono molto ma molto molto di più si possono fare così come si possono anche perdere assolutamente ci sono veramente possibilità più ampie rispetto a questi modi di investire cioè proprio come metodo di investimento magari c'è chi usa lo staking chi crede in un progetto e quindi investe in quel progetto chi fa piani di accumulo in quel progetto chi ci fa trading magari anche con le shitcoin che sapete no cioè sono volatili proprio immensamente ci fanno per due per tre per dieci e quindi guadagnano molto di più rispetto magari all'immobiliare magari a un'azione magari alle materie prime magari al mercato azionario e quindi è quella che si sente di più ovviamente ovviamente il rischio si può guadagnare appunto di più percentuali molto più alte rispetto a questo ma il rischio è anche molto più alto attenzione questo è da tenere in conto perché dobbiamo vedere anche il rischio e infatti faremo poi una classifica sul rischio sull'impegno sul lavoro che ci devi fare dietro sullo studio a vedere differenza tra loro qual è poi alla fine quello che conviene di più valutando tutti gli aspetti che ci sono dietro quindi sul discorso che vi dicevo prima quello magari che può portare più profitto sono le cripto forse è questo perché a tutti piace avere più soldi e fare più soldi in fretta c'è anche da dire che è anche un mondo affascinante poi perché magari tutto questo mondo che c'è sempre da scoprire c'è sempre da stare dietro allora ok lì c'è pure da capire ma questo solo se andiamo al punto 5 come vi dicevo quello più importante e adesso appunto il punto 5 quello che nessuno non lo fa ed è quello più importante cioè ve lo assicuro è veramente quello più importante l'investimento migliore è su te stesso l'investimento migliore è questo questo è il primo investimento da fare a parer mio non dite di no non direi vabbè ma si sa non si sa no perché poi si sa non si sa però non lo fa nessuno veramente in pochi che poi anche qui ci sono tante sottocategorie perché dici investi in te stesso ma in cosa sostanzialmente e anche qui c'è un mondo che si parte ad esempio dallo studio dai corsi online a pagamento la formazione gratuita con cose che si trovano online facilmente le esperienze cioè provarci magari anche negli altri ambiti negli altri investimenti e fare esperienza c'è un discorso veramente ampio perché poi su te stesso c'è da lavorare veramente tanto ci sono le leggi di attrazione corsi motivazionali anche essere motivato da altre cose non per forza seguendo un corso o sentendo altro cioè sono cose veramente importantissime e fondamentali secondo me questo è quello più importante da fare e soprattutto quello da cui partire perché se tu mi dici investo in cripto però poi non sai nulla delle cripto vai lì e dici ok compro questa vendo questa vendo questa ci puoi fare anche qualcosa perché ormai si sentono voci in giro magari senti questa farà un per due compri quella criptovaluta fa veramente un per due riesci a fare una cosina di soldi e poi magari in futuro poi ne perderai tanti altri perché poi non hai guardato gli altri punti ti sei concentrato solo sulle cripto ma senza studio studio ovviamente inteso oltre a quello base che si fa a scuola cioè mettersi lì e studiare capire cosa si vuole fare capire su cosa si vuole investire capire come investire perché molte persone che investono e non hanno diciamo le basi cioè non hanno investito in studio non si sono concentrate a capire qualcosa appunto non si danno né un freno non si danno un limite l'errore più grande che viene fatto solitamente è quello che ci fa perdere più soldi è quello di non trovare un punto di ingresso un punto di uscita al nostro investimento oppure di mettere più soldi di quello che siamo disposti a perdere questo perché non ci siamo fatti una base non ci siamo formati all'inizio e quindi quando vediamo un'opportunità che può essere buona solo apparentemente ci andiamo a buttare magari tutti i soldi dentro oppure più di quello che siamo disposti a perdere oppure investiamo sempre di più e non diciamo mai questo è il momento di uscire questa cosa non viene mai mai fatta cioè si va lì si mettono i soldi dentro si mette più di quello che si è disposti a perdere oppure si continua a reinvestire fin quando poi magari non so può essere una criptovaluta magari entriamo qui diciamo è buona questa sale poi risale poi risale e noi non sappiamo quando ci dobbiamo fermare e quindi scende è un po' come dare uno stop loss un take profit quando si fa trading è importante darlo e ce lo dobbiamo dare anche noi mentalmente non è che dobbiamo stare lì però è importante e quindi ce lo dobbiamo dare invece questa è una cosa che non viene assolutamente mai fatta e poi ci porta solitamente a perdere magari più di quello che abbiamo investito a perdere tutto non si fa non si fa questa perché perché è importante il punto 5 magari ripeto poi andiamo a approfondire tutto uno per uno perché altrimenti viene un video di 50 minuti andiamo a vedere tutte le sottocategorie di ognuno di essi e poi magari andare a vedere anche ognuno di essi quanto può performare quanto tempo ci richiede quanto difficile facile e tutto il resto questo è importante saperlo anche se ripeto la diversificazione è molto importante secondo me questi 5 asset sono quelli più importanti su cui investire ripeto se voi ne conoscete altri investiti in qualche altra cosa anche in qualche sottocategoria da inserire in questi asset ditemelo che ovviamente ne discutiamo le inseriremo nei prossimi video ne parleremo sicuramente niente credo di essere stato chiaro almeno di aver detto la mia soprattutto e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti